La Turris si sgretola nei minuti finali ed esce sconfitta per 1-0 tra le Muramiche contro un Picerno pratico e quadrato. I Corallini partono subito col piede sull'acceleratore, pronti a fare la partita, e nei primi minuti costruiscono diverse azioni con conclusioni dall'Inite da parte di Tascone e Leonetti, che a quindicesimo calcia debolmente da posizione favorevole. Al ventesimo ancora la Turris a rendersi pericolosa con Tascone, che si inserisce in aria, riceve la palla e calcia a botta sicura, ma il portiere Lucano Albertazzi si fa trovare pronto. Dopo il forse iniziale, il Picerno cerca di organizzare qualche sortita offensiva nei minuti finali con Vivacqua e Carrà, che impegnano non poco il portiere Corallino Perina. Nella ripresa gli ospiti partono con un cambio, Reginaldo per dettori, ma la musica non cambia con la Turris a dettare il ritmo. Entra Franco per dare più fluidità alla manovra. Al quattordicesimo Tascone con un tiro dal limite colpisce la traversa e poco dopo manda alto un tiro dall'interno dell'aria. Ancora un altro legno colpito da Varutti, che si inserisce di testa su assist di Giannone. Nella seconda metà del secondo tempo la Turris inizia ad allungarsi e non riesce a creare azioni degne di nota. Al quarantaduesimo il Picerno passa. Il portiere Corallino non può nulla sul tiro al volo del neo entrato Setola, che sigla il gol vittoria su assist pennellato da Reginaldo. Finale acceso sia in campo che fuori, con i portieri Perina e Viscovo espulsi e con qualche mugugno dalla tribuna.